La sorpresa? Il portiere Buffon, nipote di Lorenzo che giocò nel Milan e nell'Inter. A 17 anni esordisce in Serie A e sembra un veterano. In mezzo la battaglia è Duristanio, la prima palla a gol. Buffon è svolto. A questo punto si vede crescere il Milan che comincia a portare frequenti pericoli alla porta giallo-blu e tuttavia ha difficoltà la difesa a 5 di scala. Roberto Baggio comincia a incidere e quando Boban e Roberto Baggio confezionano uno scherzetto che potrebbe sbloccare il risultato Sensini se la cava ad esperienza, come si suol dire, ed il codino vorrebbe il calcio di rigore. Si capisce che scala e finisce la quarantena di Simone che è appena entrato alla palla della vittoria. Ma è la gran giornata di Buffon. Va tra i suoi piedi il portentoso Buffon e così cala la terra. E mentre Sacchi lascia detto di non aver più il mare, Scala e Capello la vedono così. L'esordiente Buffon è tutto da ascoltare.